Ciao a tutti! Siamo Manu e Luca di Pizza and Row. Oggi siamo qui non per fare una videoricetta ma per parlarvi di una cosa fantastica che succederà a settembre. Chi ci segue sa già che l'11, il 12 e il 13 di settembre saremo all'hotel Luxor a Bellaria Igea Marina, che è un hotel vegan veramente fantastico, quindi vi consigliamo intanto di andare a visitare la loro pagina Facebook, la loro pagina Instagram e il loro sito internet per vedere e sbirciare un po' che posto fantastico è. E saremo lì per tre giorni fantastici, un weekend davvero per rigenerarsi, per rigenerare la mente ma per rigenerare anche il corpo e soprattutto per imparare a prendersi cura di se stessi. Quindi si tratterà di un weekend dedicato principalmente a voi, un weekend dove potrete prendervi cura di voi stessi da un punto di vista fisico, mentale e dell'anima. Una di quelle occasioni da non perdere insomma, poi ci saremmo noi due. Sì, noi due saremo lì proprio per insegnarvi a prendervi cura di voi, soprattutto dal punto di vista dell'alimentazione che è fondamentale, ma non solo perché il weekend è veramente ricco di cose meravigliose. Allora, il primo giorno che è appunto l'11, che è un venerdì, arriverete in albergo, verrete accolti dalla famiglia Bianchi, che è la famiglia appunto che è la proprietaria dell'albergo e ci sarà subito appunto nel pomeriggio di venerdì un avvicinamento al crudismo. Vi parleremo quindi del raw food, di che cos'è il crudismo, dei benefici che si possono ottenere da questo stile di vita e di come potete portarlo nella quotidianità della vostra vita appunto, come potete prendervi cura di voi attraverso questo stile di vita alimentare. E alla fine del corso poi ci sarà una cena vegan con una degustazione crudista. Il giorno dopo invece, con sabato, si parte con un'introspezione molto importante fatta attraverso una meditazione, la meditazione del lasciar andare, che si farà molto presto la mattina e sarà veramente rigenerante. Tranquilli e non così presto, perché se mi sveglio io ce la fate anche voi. Però al mattino presto si riesce appunto ad entrare ancora più in profondità in se stessi e a essere connessi con il proprio corpo e con tutta la natura meravigliosa che ci circonderà. Seguirà una colazione ricca e a buffet, un buffet dell'hotel luxor è veramente sempre un'esplosione di gioia e di colori fantastici. E poi ci sarà il primo corso, perché in questo weekend ci saranno tre corsi di cucina, quindi è veramente un'occasione. Hai indovinato un pochino che ritiene questi corsi? Noi, io. Quindi il primo corso sarà un corso di smoothies, quindi impareremo diversi tipi di frullato più densi, più da bere e che veramente soddisferanno il palato, la vista, saranno super colorati e veramente semplici e gustosi, quindi vi insegneremo un modo anche per prendervi cura di voi. Ogni frullato avrà delle proprietà nutritive differenti anche in base al colore del frullato e quindi è veramente un corso da non perdere e i frullati sono perfetti per le colazioni, per le merende, tu ne sei super ghiotto, quindi è veramente un buon modo per iniziare questi corsi. Poi ci sarà il pranzo, ovviamente durante la mattinata del corso si farà una degustazione di tutti quelli che sono infrullati che prepareremo. Il pomeriggio ci sarà il secondo corso, che è un corso di raw food salato, dove vedremo la preparazione di delle ricette semplici, veloci, ma super super sfiziose, che assaggeremo poi nella cena del sabato sera. Ma non è finita qua, perché il sabato sera ci sarà anche un momento di ritrovo e di scambio anche tra i presenti, di confronto, dove faremo delle letture per l'anima. Quindi faremo delle letture che ci aiutano a riflettere sulla nostra vita, sulla nostra persona, su che cosa ci fa stare veramente bene e quindi saranno veramente delle letture che ci aiuteranno a rigenerarci ancora di più. In tutto questo avranno anche dei momenti liberi per loro immaginano. Assolutamente sì, ci saranno comunque dei momenti liberi dove potrete riposarvi, andare in spiaggia, sì, l'albergo poi è proprio sulla spiaggia, quindi non si può assolutamente perdere l'occasione di tuffarsi il mare. E quello a bagno sarò io. No, non è vero perché lo costringerò ad aiutarmi a cucinare. Sì, però la nuotata me la devo fare. Certo, ma anche io me la farò. Poi invece per quanto riguarda la domenica si inizierà con una bella camminata in mezzo alla natura. Esatto, quindi andremo a camminare, entreremo in contatto con la natura che ci circonda, con gli alberi, perché vicino a Hotel Luxor c'è anche un fantastico parco naturale, quindi ricco di alberi, ricco di natura proprio. Oltre il mare quindi c'è anche tutta questa parte naturale molto bella da vedere. Quindi a prescindere dal weekend vi consigliamo di andare a Hotel Luxor. Ma prima di questa stupenda camminata, lo vogliamo mettere un po' di carburante? Ovvio, quindi ci sarà una colazione. Ovviamente una ricca colazione al buffet, dove potrete attingere di alimenti super salutari. E poi ci sarà appunto questa camminata all'aria aperta. Successivamente ci sarà il terzo corso, ci sarà anche l'ultimo del weekend, ed è il corso di raw food dolce, quindi prepareremo dei dessert, dei dolci. Lei non è goloso, quindi vi farà fare della roba che non è buona. Super super sani, super super golosi e che appagheranno veramente tutti i vostri sensi, dalla vista al palato. Veramente saranno dei dolci che saranno super salutari e che vi soddisferanno in tutto e per tutto. In questo modo potrete poi rifare tutte le ricette che abbiamo visto nei corsi, poi a casa vostra. La cosa bella di questo weekend è che non è semplicemente un weekend dove uno va, si riposa, si rilassa e basta. È un weekend dove imparate veramente a prendervi cura di voi stessi, sotto tutti i punti di vista, quindi non solo dal punto di vista dell'alimentazione, ma anche dal punto di vista del contatto con voi stessi. E quindi è davvero, davvero importante goderselo più in fondo questo weekend. Vi ricordiamo che fino al 10 di agosto c'è una super promozione, quindi vi invitiamo a visitare il sito dell'hotel Luxor che è www.hluxor.it nella sezione offerte trovate tutto il programma e tutto quello che vi serve sapere. E anche per le iscrizioni. Per la prenotazione anche. Vi invitiamo a sbrigarvi, a prenotarvi perché i posti rimasti sono veramente pochissimi e quindi davvero è un'occasione da non perdere ed è un'occasione da sfruttare in tutto e per tutto. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo numerosi. Vi ricordiamo le date che sono l'11, il 12 e il 13 di settembre all'hotel Luxor. Quindi mi raccomando, prenotatevi, vi aspettiamo. Per qualsiasi informazione potete contattare l'hotel Luxor per le prenotazioni. Se volete potete chiedere anche a noi il programma, ma comunque la prenotazione va fatta all'hotel Luxor. Al prossimo video e buone vacanze. Ci vediamo a settembre. Ciao!